vediamo adesso il nel primo tempo il vediamo il gol della juventus attenzione all'azione finale rossi bonniec attenzione rossi platini scambio con bonniec platini tiro rete ecco altre immagini che si riferiscono queste che vedremo al secondo tempo quelle occasioni laziali ecco laudio tira testa di giordano di poco fuori ancora un'altra azione della lazio in questo secondo tempo piuttosto vehemente giordano tacoli devia ed ecco piri che di poco mette fuori ancora vediamo un'occasione laziale è laudico che alza in corsa poi un'azione nel finale juventina tacco di platini bonniec paracacciatori